Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Enrico Brignano ha sposato la sua Flora Canto. I due sabato 30 luglio hanno coronato il loro sogno d'amore Fidanzati dal 2014 hanno due splendidi figli, Martina e Niccolò e finalmente si sono detti sì per sempre . I fan sono al settimo cielo, insieme sono bellissimi e la loro felicità è palpabile Enrico Brignano e Flora Canto si sono detti sì in una bellissima location Il comico romano ha sposato la sua bellissima Flora. I due hanno deciso di optare per uno stile sobrio ma Schickeban si sposa con la location La Canto ha scelto di indossare un abito bianco, stesso colore della torta nuiziale Bianco anche l'abito della figlia Martina, il secondo genito della coppia invece, Niccolò era vestito come Enrico Credo che sia dovuto a un voler chiudere il cerchio. Abbiamo fatto due figli, avevamo tutto e volevamo chiudere il cerchio, ha dichiarato Flora nel corso di un'intervista rilasciata per estate in diretta La Canto ha svelato, ci saranno quattro violinisti ad accompagnarmi dal mio ingresso all'arco dei fiori dove ci sarà Enrico, ha dichiarato Flora Canto nel corso di un'intervista rilasciata prima delle nuzze al settimanale Gente Flora Canto, la location è stata scelta a primo colpo. Ci saranno un palco, una band, un led wall sul quale proiettare foto e video Canteremo, balleremo, ha aggiunto la Canto svelando anche che gli invitati saranno 150 La testimone della sposa è Tosca D'Aquino, amica da tempo, noi condividiamo gioia e dolori, lei c'era a qualsiasi ora nei momenti difficili, anche alle due di notte o alle sei di mattina Ci siamo scelte. Per quanto concerne il luogo ha detto, la location è stata scelta a primo colpo, e che, non ci sarà la confettata ma una semplice bomboniera Per quanto riguarda i costi, gli sposi non hanno dichiarato nulla al riguardo Sono stati entrambi riservati sulla faccenda. Di certo quello che si sa è che è stata una cerimonia bellissima, alla quale hanno partecipato amici e partenti della coppia, che hanno reso il loro giorno speciale ed indimenticabile Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video